Un giorno la miseria è venuta a farmi visita e si è seduta sulla capa del cammino, un tozzo di pane. Nella madia sopravvivono soltanto bricciole indigeste e la cucina degli spiriti spunti, dei mancati sovaglioli, dei segni a posto rotti. Perché ho lasciato andare tutto? Perché non ho più usato il detersivo? Perché ho smesso di arieggiare? Pulire non è una cosa che mi riguardi. Apparecchia, sparecchia, apparecchia, sparecchia, apparecchia, sparecchia, tutta fatica inutile.